Allora, oggi dobbiamo parlare di una cosa di cui effettivamente mi avete parlato in tanti, cioè mi è stata veramente mandata da un sacco di persone che mi seguono questa situazione, sperando che non si carichi di praticamente questo video che è diventato super virale. Molto probabilmente avete già visto questa cosa, cioè ragazzi, 13 milioni di visualizzazioni a stori condiviso per giorno intero ne hanno parlato, una marea di individui anche abbastanza seguiti nell'ambito social, sia del gaming che non, parliamo di questo tizio che letteralmente, vabbè se state guardando questa roba su YouTube sapete già dall'attito di cosa si parla, questo tizio che stava giocando ad un videogioco, che non sono un gamer, non me ne frega assolutamente niente, Starfield, ha avuto questa pacata reazione molto comprensibile, molto matura, in relazione, adesso vabbè comunque traduco quello che verrà detto nel video per i miei amici che non hanno fatto l'inglese, che hanno fatto l'inglese a scuola, perché stava giocando a questo videogioco e gli hanno tipo chiesto i pronomi per il personaggio che stava creando, che vabbè, poi ce n'è un altro in cui, spoiler, tipo si mette a piangere perché un personaggio del videogioco è trans, quindi, cioè ragazzi, qui siamo proprio a livelli, e lo so che può sembrare una roba stupida, e dici, ma bro, innanzitutto perché dovrei guardare questo video? Ci sono le 6, sono i tipi, per te. Sì, ok, perché dovrei innanzitutto guardare questo video? Cioè che cazzo me ne frega? Però è il motivo dietro a tutto ciò, perché è ovviamente un motivo culturale, a mio parere, ovviamente, la mia valutazione riguarda, è ovviamente un motivo culturale e io ne voglio parlare perché, secondo me, questa è un po' ciao amici di YouTube, state guardando questa cosa su YouTube, lasciate un mi piace, è sulla fiducia, iscrivetevi se lo avete fatto, e fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di questa situazione. Slash, fatemi dei complimenti, che sono sempre ben accetti. Please traduce te in inglese, ok. Nel videogioco che sto giocando gli hanno chiesto di mettere i pronomi per il suo personaggio, e lui ha reagito così. Vabbè adesso è sarcastico, dice non c'è niente che ami di più di mettermi al PC, questo accento british che mi sta facendo sentire male, non c'è nulla che mi piace di più di mettermi al computer, accendere il mio PC e giocare al videogioco per distrarmi dalla realtà e bla bla bla, e venire bombardato con la propaganda. Oh mio Dio, pensi a questo mondo, pensi a tutti i planeti che posso visitare, tutte le cose immersi che posso essere involvati, tutte le combattie, tutte le relazioni, tutte le persone che ho incontro, tutte le persone che ho incontro, tutte le cose che ho incontro, sono molto felice per andare, e tu sai, non mi piace nulla di più, con tutto quello che ho messo in fronte di me, non mi piace nulla di più, di essere riuscato a tutti i f***i pensi, non mi piace nulla di più, quindi tu puoi f***i curandermi noi! Scusate, vuoi essere immersato nel nostro mondo? Sì, beh, guarda cosa, f***i pronomi! F***i... Però ti giuro, internet... Internet, la... Vabbè, ovviamente ha una gran parte di idioti e gamer, retrogati, fermi ancora all'umorismo del 2013, l'hanno difeso però la quantità di persone che l'hanno sfottuto, perché, cioè, lui è arrabbiato che in un videogioco ti chiedano i pronomi. Tutti i videogiochi in cui devi realizzare un... in Pokémon qualcuno ha messo, tipo, la roba aspetta. Tipo, in Pokémon ti chiedono... Cioè, è letteralmente... La lingua... L'inglese ha i pronomi... Bro... Che poi è assurdo... Anche in Italia, cioè, c'è un sacco di gente... Questa cosa dei pronomi che si sono inventati adesso, ma non hai fatto le elementari? Cioè, non lo, bro, hai schippato le elementari, cioè, non ti hanno ammesso alle scuole elementari in cui ti insegnano gli avverbi, le congiunzioni, i pronomi... Cioè, la base della grammatica... Bro, questo c'ha 40 anni. 50. Cioè, secondo me, è al massimo, al massimo dai 37 in su, con... Tu... Tu... Ok. I... I robottoni... Di... Ma questa è una miniatura di se stesso? 60 almeno, che urla perché in un videogioco, fittizio, immaginario, ti chiedono i pronomi per il tuo personaggio, in modo che sappiano come riferirsi nel tuo personaggio, nei dialoghi che ti escono sottostanti. Bro, letteralmente fan medio di tweener, quando una ragazza cisgender, nata donna, che si è sempre identificata come donna, che si veste come donna, che ha i capelli corti, viene chiamata da loro uomo, e lei dice loro che è una donna. Reazione medio del fan di tweener, quando donna con i capelli corti, è una donna. Fan, fan di Matt Carus, fan di Matt... E' il più intelligente, pacato, rispettoso e capace di argomentare fan di Matt Carus quando in un videogioco c'è un personaggio che che non è etero. Quando in un videogioco tutti i personaggi sono etero tranne uno che non è etero. pronoms fucking gender ambiguity Sì! Breva, che ti frega... Cioè, ma capito, tra l'altro la cosa che fa più ridere è che questa è una reazione esagerata perché per un videogioco in cui ti chiedono i pronomi, già mi piace perché tipo, no, vabbè, cioè, è una scena schippabile, cioè, da quello che ho capito, non ci ho mai giocato, però tipo, tu puoi anche schipparla, alcuni utenti non l'hanno nemmeno vista per dire, perché sono andati avanti, hanno fatto conferma, perché da quello che so, cioè tipo, tu puoi scegliere il sesso ma poi puoi scegliere i pronomi, cioè, se tu scegli maschio ti mette i pronomi maschili, un pop-up che ti permette di scegliere di non avere magari gli stessi pronomi e quindi, cioè, e? Sono le stesse polemiche quando magari nei videogiochi c'erano tipo, i personaggi che erano neri perché, oh mio Dio, guarda, stanno cercando, adesso ci sono dei personaggi che io non posso nemmeno divertirmi giocando ai videogiochi perché ci sono dei personaggi che non sono, i personaggi sono bianchi come me oppure quando hanno introdotto i primi personaggi e alcuni si sono lamentati di questa cosa, adesso lo vediamo. questo è il livello del nostro narcisismo, non riusciamo a vedere oltre il nostro stesso riflesso. Il bro che si lamenta perché esistono persone che sono diverse da lui e che non accetta chiunque non sia uguale a lui. Il bro che sta urlando come un bambino di due anni che vuole sua madre perché in un videogioco ti chiedono se i pronomi e il sesso combaciano e lo puoi rischippare non è nemmeno fondamentale capito? Però cioè mi piace vedere cioè io scherzo però mi piace vedere cosa tutti questi influencer youtuber tiktoker eccetera eccetera che hanno coltivato questo questa specie di complotto questa specie di paura che noi trattiamo abbastanza spesso su questo profilo questa ossessione che adesso cercano di fare questo fare quell'altro e che provano a farti il lavaggio del cervello cosa questi influencer con i loro video e con la loro massiva e pesante propaganda sono riusciti a creare perché questo odio non viene da cioè qui non si sta parlando dei pronomi che è una roba grammaticalmente corretta che fa parte della lingua inglese qui il sottotesto è non voglio nemmeno che venga nominato nemmeno nominata l'esistenza di persone non binarie o di persone trans in un videogioco che sto giocando perché non devono esistere perché la reazione forse non così esagerata però molto simile per le donne che si approcciano al mondo dei videogiocatori perché comunque il mondo dei videogiochi è molto gatekeeping cioè è molto no forse adesso un po' meno forse più si va avanti col tempo meno lo è però tende ad essere molto gatekeeping ci sono tante community che sono super no chiuse che non vogliono che le loro robe diventino mainstream che altre categorie di persone che storicamente magari non sono non si sono mai avvicinate al mondo del gaming si avvicinano al mondo del gaming cioè il mondo del gaming è proprio un mondo che in alcune community è relegato a vent'anni fa cioè ironicamente un mondo pieno di contraddizioni tra l'altro di gente che magari nella vita reale è esclusa e marginalizzata che però su internet esclude marginalizza e insulta altre categorie di persone che magari sono ancora più discriminate non ho capito cioè il bro palesemente negli eventi sociali nel mondo reale nella società reale è ai margini ok senza offesa e che e che si incazza e che sfoga perché è così che succede che sfoga il proprio odio su community che sono ancora più marginalizzate di lui odiando la comunità LGBT con la tastiera che si illumina di tutti i colori dell'arcobaleno mentre gioco ad un videogioco in cui sono una liceale giapponese vabbè andiamo avanti il bro sta giocando esplorare tutto l'universo e visitare i pianeti e ci sono tipo gli alieni se non sbagliono da quello che ho capito perché per 0,2 secondi viene detto che hai la possibilità di personalizzare il tuo appunto il tuo personaggio che stai giocando cambiandogli i pronomi cioè ti hai capito tu hai la possibilità nel videogioco di non avere i pronomi che combaciano con il tuo sesso e sta facendo questa scenata di ormai due minuti in cui grida e c'è capito che qui parliamo di un odio interiorizzato e radicalizzato di alcune persone proprio nei confronti di questa gente che ho capito se sei non binario o se non sei cisgender boom non devi nemmeno essere nominato cioè non si deve nemmeno fare riferimento a te che è stupido cioè un gioco a mio parere poi dipende da cosa stiamo a cosa stiamo giocando cioè più è personalizzabile più permette ad altre persone al di fuori di te di immergersi e di immedesimarsi meglio è cioè nel senso sei un maschio che si identifica come maschio che è felice di essere maschio boom ti vuoi scegliere il personaggio maschio o ti puoi scegliere il personaggio femminile che cazzo c'entra con i tuoi cioè capito con la tua persona però anyway sei un maschio felice di essere maschio sceglierai un personaggio che è no è un maschio felice di essere maschio ma magari sei un ragazzo che si identifica con she her o con they damn o sei una ragazza che e quindi giochi al videogioco e nel videogioco vuoi creare un personaggio che ha le tette però usa il day damn che ne so e quindi cioè e capito è divertente perché tutte queste proteste queste e altre che abbiamo visto sono sempre mai sul fatto che si tolga qualcosa a qualcuno cioè non è mai tipo adesso ci impediscono di vedere i film vecchi con cui siamo cresciuti e ci obbligano a guardare i nuovi film politicamente corretti oppure adesso ci tolgono questa funzionalità e ci obbligano a cioè sono sempre funzionalità in più e queste persone hanno un odio una così proprio interiorizzato anche secondo me alimentato da questi youtuber e questi influencer che hanno trovato il loro successo la loro popolarità sui social e sono veramente contento di fare questo genere di video per questo dicevo che sentivo bisogno di parlare perché mi sembra importante e altri video sono veramente molto contento che spesso e volentieri riscuotrano un sacco di successo tipo il video quello lì su entrambi forse su twinner per esempio che questo youtuber imbarazzante ha fatto 12.000 visualizzazioni che barbie il peggior film cioè è quasi 10.000 visualizzazioni sono andati veramente super bene sono molto contento sono molto contento che la gente no abbia avuto mega risponso e tanti di voi li hanno condivisi come mi fa piacere e sono giustamente arrivata delle persone che non mi seguivano e che li hanno visti che si hanno un po' cambiato idea ma a piccoli passi quindi secondo me un cambiamento con questi video lo riesco a fare o almeno dare un po' di consapevolezza dare un po' di contesto perché cioè qui parliamo di di gente che è super esperta nel prendere i casi più estremi e nel far sembrare alcune categorie di persone che vogliono solamente essere rispettate come pazze e questo mi sembra corretto mi sembra corretto per bilanciare perché alla fine qui si parla solamente di permettere di dare a tutti l'opportunità di giocare il gioco e permettere ad alcune persone che non avrebbero avuto questa cosa di avere una schermata in più un'opzione in più che magari a te non te ne frega un cazzo un sacco di gente non te ne frega niente enormi stranamente hanno avuto una reazione super positiva a questa a mio parere ovviamente dal mio punto di vista a questa notizia perché che fa anche un po' paura se devo essere sincero vabbè mi mette molta cioè io mi immagino che alcune persone si saranno anche sentite un attimo in pericolo di fronte a questo individuo cioè immagini se saranno tipo strada sta persona o essere in una stanza con cioè il tizio è vero cioè sta proprio gonfiando le vede cioè è proprio si vede che non è magari lo vedi quando io faccio magari la reazione cioè la rabbia che è una gag cioè lo vedi che sono vero vero risentimento vera violenza il frame però ma che ideologia c'è permettere alla gente di scegliere i pronomi ma che ideologia è ma capite cioè anche se non ne fotte un cazzo ma capite che roba assurda cioè permettere se vuoi se non vuoi fa stesso permetterti se vuoi di scegliere i pronomi eh non posso giocare al videogioco perché cioè terribile e poi e poi ricomincio a giocare al gioco vabbè io sto male cioè ma tipo due minuti e mezzo di invettiva su quanto faccia cagare su quanto non riesca cioè lo ripeto per me è questa roba super super eh che diventa sempre più vera ogni giorno cioè che spesso e volentieri queste robe i bambini che bisogna difendere le persone comuni non le notano neanche cioè sono questi pazzi malati ossessionati che vogliono costruirsi una carriera sul buttare merda sulle minoranze e sul cercare il complotto ovunque sul cercare di farti paura perché poi capito se hai paura se 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 ti senti minacciato se creano questa narrazione che ci sono questi questi gruppi il gioco è starfield ci sono questi gruppi di persone che ti vogliono fare questo che vogliono fare questo ai tuoi figli poi cioè giustamente hai bisogno di qualcuno che ti difenda hai giustamente bisogno del del king dell'idol hai bisogno di di avere l'ansia di avere la paranoia di avere la paura di avere un sentimento di repulsione di sentirti minacciato per poi rendere famose queste persone pensi che i produmi creano confusione aspetta di scoprire dei verbi che ridere gli fanno notare pokemon pokemon more like walk chiunque così questa gif non eroticamente è pazzo sto male feel like I should vedere cosa il tizio che stava urlando circa i pronomi di starfield pensa riguardo a hogwarts legacy al fatto che hogwarts legacy voleva essere boicottato e non ero e non sono deluso l'ipocrisia è profetica capito perché questa roba è iper ipocrita perché la gente voleva boicottare hogwarts legacy perché il gioco che poi posso dire non l'ho veramente capito quindi non ne parlerò però da quello che ho capito è perché jk rowling ha espresso delle opinioni offensive nei confronti delle persone trans per chi non lo sapesse e quindi volevano boicottare il gioco i libri eccetera eccetera perché la definiscono una TERF una femminista che però non è che però è trasfobica ok tagliamo veloci che poi c'è devo vedere l'apple event dobbiamo vedere altre cose e quindi volevano boicottare il videogio ma non è che sia successo veramente cioè nel senso le robe che la gente dice su internet quando dice di odiare le cose che vogliono boicottare le cose che vogliono cancellare le cose poi nessuno lo fa veramente e quel caso ho capito perché ha espresso delle opinioni contro le persone trans no io non boicotterò il gioco perché è un gioco e non me ne frega niente delle tue ideologie delle tue robe cresci però quando invece il gioco fa l'opposto quindi permette l'esistenza qualcuno ha messo come pronomi NOR MAL e USA sono delle acule in sottofondo not ho appena finito di mangiare che faccio squirto non credo funzioni così Alessia però va bene grazie mille bro ma vero che sembra David Rubino eh uè andiamo ecco non comprerò un gioco che ti permette di scegliere i pronomi l'erba dovrebbe essere toccata da molti big or che energy bro posso dire queste persone sembrano veramente tipo il meme queste persone sembrano veramente proprio dei personaggi negativi sembrano tipo gli scagnozzi cattivi nei film avete pensato degli scagnozzi dei cattivi cioè guarda e dimmelo se non ti manda cioè ti manda proprio l'idea di essere tipo un personaggio positivo o di essere tipo un capito lo scagnozzo numero uno del villain di turno che vuole distruggere la città cioè il problema è proprio quelle vibes cioè anche guardandolo così e vabbè 13 milioni di views 11k 100 repost 100k repost e sai che è successo qualcosa quando il numero delle post è quasi lo stesso o è più alto di mi piace cioè brother sai che ti stanno massacrando e il mio bro ha avuto un attacco di panico perché la schermata in cui ti permette di personalizzare il tuo personaggio ti permetteva di personalizzare il tuo personaggio lui non è strano sta solamente esponendo la sua opinione sul gioco non c'è nulla di sbagliato con questo le persone non possono più avere delle opinioni eh bro eh lo so è brutto vivere in un mondo in cui le persone non hanno più opinioni le persone non possono più avere letteralmente opinioni i social hanno tolto la libertà d'opinione delle persone da quando esistono i social sempre meno persone possono esprimere pubblicamente la loro opinione meme queen gamer anime nintendo gg non sta sbagliando e francamente sta parlando per tutti quanti jewish and japanese asd politically homeless satire queen supreme meme warrior based anti-walk artist pro reality lgb ally ha tolto la t la sua reazione quando un npc gli ha detto che era trans trans oh mio dio vabbè non ho capito chi sia broma sta piangendo perché broma sta piangendo perché un personaggio dei videogiochi ha detto che è trans il broma sta versando lacrime perché dei pix li hanno detto di non essere di non essere broma sta male bro cioè ha capito che questi già sono veramente sono io non so nemmeno come commentare questa cosa a voi sembra sanno di mente uno che ha questo genere di reazioni per una roba del genere cioè voi ora si idrata la pelata vabbè si è un po' brownies therapy oh mio dio bro l'npc l'ho spento bro non ci posso credere no bro cioè immaginati arrabbiarti per dei pixel e un npc neanche una persona che viene chiamata npc no letteralmente la definizione di npc ti 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 distrugge e ti risponde shut the fuck up comunque risposta incredibile nerfs kicking in oh mio dio ci posso credere brain injury questo non è circa l'ideologia ricordatevi quello che vi dico sempre a queste persone ne frega un cazzo quando star wars è letteralmente una metafora dell'intervento dell'intervento militare americano su determinate zone quando riprende alcuni eventi storici diciamo così trasfigurandoli un po' romanticizzandoli un po' non ne frega un cazzo quando in star wars ci sono dei palesi riferimenti alla religione e ci sono dei palesi riferimenti all'imperialismo americano in questo caso o in altri contenuti del genere non ne frega un cazzo quando ci sono queste cose a loro in realtà non è che non vogliono vedere ogni tipo di ideologia o religione non vogliono vedere quelle che a loro stanno sul cazzo quelle che a loro non piacciono tendenzialmente e si comportano come se queste opere non fossero delle grandiose opere perché hanno appunto dei messaggi a riguardo dei messaggi che poi sono celati dietro a metafore dietro a simbolismi ok va bene sì aspetta di scoprire what the empire was based on le persone che esistono non è un'ideologia io vorrei stampare questo tweet cioè la gente dice ah esistono le persone trans bro stai spingendo la teologia nei miei confronti cioè bro che ideologia è nessuno ti dice che devi essere trans o che tantomeno devi supportare le persone trans stai dicendo bro ci sono noi magari giocano anche loro al videogioco cioè perché perché buttare di merda contro a caso cioè ignoralo se è proprio una cosa che non ti piace cioè già star wars è un'immensa critica alle politiche di estrema destra e all'imperialismo e all'imperialismo e allo sfruttamento delle cioè ci sono delle scene con l'impero che sfrutta e distrugge pianeti che hanno alcuni ecosistemi per i suoi ma anche tipo il signore degli anelli bro il signore degli anelli letteralmente distruggono le foreste buttano giù le foreste per costruirci le armi e fare la guerra e parlano di un impero guerra fondaglio di orchi che creano questo quarta rivoluzione industriale ma di che cazzo state parlando ma ragazzi ma voi i film li guardate vedete i colori e fate o siete anche in grado di leggere il messaggio che vi vuole mandare cioè capito non sono nemmeno messaggi così criptici e chiusi alcuni magari sì alcuni hai bisogno di una o due sguardi ma bro letteralmente questi fantasy hanno pieno di messaggi politici e di riferimenti a determinate cose bro è proprio cioè è proprio lui a parte che perfect timing per stoppare cioè raga dite cioè raga è proprio il meme è identico è spaventoso il meme il wojack che esiste da anni del nerd sfigato con un certo aspetto fisico con la pelata con la barba i quattro peli qua sopra i denti storti che che si arrabbia per una roba cioè questa immagine viene utilizzata su internet da milioni probabilmente di persone per descrivere proprio capito il pazzo sfigato nerd estremista che si mette a litigare con le persone che augurano le peggio cose alle persone su internet è idee cioè comunque posso dire è assurdo da un certo punto di vista io sono sconvolto ragazzi io sono virgin starfield hater average starfield enjoy alieni multiforme strani persone non binarie bro chasing after anti si posso dire la popolarità che ti da l'essere un attivista dell'anti politicamente corretto è a mio parere incommentabile cioè ancora oggi on my way to enjoy starfield la popolarità che ti da la popolarità e il clout che ti da l'essere un attivista contro il politicamente corretto è ancora oggi inspiegabile disgustoso puoi flirtare con samco in starfield questo è ok se sei una donna ma io gioco sempre come as myself in the game quindi è un maschio immaginavo quindi crea un personaggio maschile e questo va anche contro la storia di sam la storia perché sam è etero perché c'è l'opzione qui per i maschi la bisessualità esiste nei nei precedenti giochi di bethesda e l'attore che ha fatto che ha doppiato sam ha detto che ha interpretato il suo personaggio come bisessuale flirt oh i ho mai cioè il bro in un gioco in cui puoi scegliere una serie di opzioni dice oh no bro c'è l'opzione per provarci con un uomo è ok se sei una donna perché l'eterosessualità è ok ma bro il mio personaggio inventato in un videogioco che non esiste realmente potrebbe essere bisessuale se io scelgo di renderlo bisessuale no vabbè però vi rendete conto di come state cioè vi rendete conto di come cioè vi rendete conto di un videogioco cioè ma quando è che inizierete a preoccuparvi del il guy è stato distrutto dalle community notes sì infatti questo l'ha messo non è realistico se non posso flirtare in game omies anti social justice bro normal person enjoyer cioè ma ti rendi conto oh my god who the hell cares ma a me sembra più politico cioè io posso essere sincero queste persone non fanno altro che lamentarsi che tipo ah l'ideologia la politica ma bro non c'è nessuna ideologia nessuna politica cioè nel senso hai la possibilità di 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 provarci con un personaggio del tuo stesso sesso e cioè questo discorso è politico questo discorso è ideologico perché tu stai facendo un un dibattito stai facendo una polemica su un videogioco cioè lo dissi nel video su twitter di barbie queste persone sono uguali alle persone che criticano cioè quando questa gente parla male dei social justice warrior perché si lamentano perché nei film e nei videogiochi ci sono cioè bro poi fanno la stessa identica cosa cioè guardate guardate cosa cazzo stanno facendo ma dimmi tu se non è contraddittorio alla millesima potenza dimmi tu se si lamentano che nei giochi la politica e l'ideologia politica e roba facendo post e tweet del genere piangono urlano si lamentano che i social justice warrior e le compagnie le multinazionali e besos e bill gates che ci fanno il lavaggio del cervello e e questi snowflex queste queste persone che si arrabbiano così tanto per perché tu non hai la loro stessa opinione poi fanno i video in cui urlano piangono dicendo le vene che gli esplodono per perché c'è una scherma per per la minima stronzata capito solo perché le persone gay vengono vagamente nominate e questo cioè boh io non non so veramente come my beloved friend I'm a gym ah il la tiz il qualunque cazzo di alieno sia questo ha cambiato sesso ma che cazzo ne so io eh però you know concludo ho già detto abbastanza secondo me nel corso di questo video mamma mia ho i capelli che stanno che stanno desfatti ho già detto abbastanza nel corso di questo video ci tenevo secondo me era utile farlo secondo me era utile fare questa live e poi secondo me è anche utile metterlo su youtube spero che possiate apprezzare l'impegno il tempo e le argomentazioni che ho dato spero che molte cose che ho detto siano chiare e spero che come magari altri video riescano ad arrivare a persone che hanno subito lo stesso lavaggio del cervello hanno subito la stessa paranoia in situazioni che si rendano conto che nominare l'esistenza delle persone trans o delle persone bisessuali o permettere ad alcune persone di essere di essere trattate allo stesso modo è solo che giusto cioè ragazzi ma perché non si dovrebbe dare un'opzione in più se non si toglie niente a nessuno se non si toglie niente a nessuno permettere agli altri di essere inclusi è più che corretto e se ti dà fastidio forse perché odi proprio questa categoria di persone e cerchi di difenderti dietro a stupidaggini e dietro a complotti stupidi e infondati grazie mille se il video vi è piaciuto o se in generale avete apprezzato questo contenuto vi chiedo di mettere un mi piace totalmente gratuito per voi ma fondamentale per me e di condividere il video e nulla magari mandarlo a qualcuno che avrebbe bisogno di vederlo o spingerlo per dargli più visibilità insomma premete tipo i tasti che vedete qua sotto di me tipo iscriviti condividi non lo so commenti cose per aiutare per aiutare un bro e soprattutto nei commenti fatemi sapere la vostra opinione fatemi sapere che ne pensate e niente grazie ancora ragazzi vi mando un bacino vi voglio bene grazie per aver seguito il video fin qui se siete iscritti vi invito a farlo se siete iscritti noi ci vediamo o in live se volete venire su twitch o in un prossimo video vi voglio vi voglio bene vi voglio bene